Mi ha ritrovati in apertura all'orrore della guerra siriana, dei rastrellamenti delle uccisioni di massa dell'incubo Isis nel racconto di chi è riuscito a scappare. Marita Ballesio ha incontrato una famiglia che ce l'ha fatta e ora si trova in un luogo sicuro e protetto, messo a disposizione dalla parrocchia di Leyni. Mio figlio è nato durante la guerra, quindi questo mi fa capire la gravidanza di mia moglie quanto è stata difficile, perché lei appunto era così terrorizzata, così spaventata. Poi la mia seconda figlia è nata in un campo profughi, è una rifugiata, è una profuga, quindi questa è l'assurdità. C'è una figlia è nata in Libano, il figlio è nato in Siria, entrambi sono nati nella guerra, è la cosa che più come padre, la notte non dormivo perché avevo paura che arrestassero mia moglie e la stupravano e mi uccidevano i miei figli davanti ai miei occhi, cosa che hanno fatto a moltissime famiglie siriane. Rincorrere un pallone per un bimbo di tre anni nato in un campo profughi che non sa cosa sia la pace e la libertà è un'emozione unica. Il bimbo che vedete in queste immagini si chiama Nur ed è arrivato da poche ore in Piemonte, in fuga dagli orrori della Siria, dalla città di Oms ormai rasa al suolo e da quella che è stata ormai definita una catastrofe umanitaria che conta ormai più di 100.000 vittime. Nur, dopo mesi di paura e viaggi in condizioni terribili, si trova ora al sicuro a Lenin nel Torinese, insieme al suo papà Yaayamon, la professore di teologia arabo presso l'Università di Damasco, alla sua mamma Ibaa, alla sorellina Mira di appena un anno e a tutti i suoi zii. Li incontriamo nella casa messa loro a disposizione dalla parrocchia guidata da Don Pierantonio Garbiglia. Ci facciamo raccontare la loro storia, dura, forte, ricca di ricordi drammatici, ad aiutarci con la lingua khadija, giovane volontaria di origine marocchina che fa parte della comunità parrocchiale. Da dove inizia il loro orrore, il loro incubo, la loro fuga? La nostra storia è veramente una storia di qualsiasi famiglia siriana, non ci sono grosse differenze. È la storia di una famiglia che ha subito tante cose, che è stata costretta a lasciare la propria terra, la propria casa, i propri cari. Il nostro viaggio è stato un viaggio lungo, pericoloso, perché siamo scappati dalla nostra terra. Non abbiamo abbandonato, oppure abbiamo deciso di cambiare paese perché la Siria non ci piace più assolutamente. Noi siamo scappati dalla Siria per vivere. È stato un viaggio pericoloso, pieno di preoccupazione, di ansia, di paura e terrore più che altro perché non sapevamo quanti di noi riuscivano a scappare dalla Siria. Lui mi diceva che, ad esempio, le donne di questa famiglia sono riuscite a scappare dalla Siria in modo legale, quindi attraversando un confine, ma in modo legale. Invece gli uomini della famiglia sono scappati in modo illegale, hanno rischiato più volte la vita, sono stati fermati più volte, hanno rischiato di non poter superare quel confine sapendo che la propria moglie, la propria sorella è in Libano e io sono in Siria. Quindi è una domanda difficile la sua che mi ha posto perché è un viaggio difficile, molto duro. Abbiamo subito tante cose. Si scappa anche per quanto vi riguarda dall'ISIS che, lo ricordiamo, poco c'entra con cristianesimo o islam. L'ISIS non ha niente a che fare con la religione, quindi è una cosa veramente che purtroppo molte persone tendono a collegare, però l'ISIS non è islam. Essendo siriani la presenza dell'ISIS c'è in Siria, però c'è nei posti in cui c'è petrolio, in posti in cui ci sono le ricchezze, quindi l'ISIS c'è in posizioni molto strategiche, non è lì per caso. E l'ISIS, il suo obiettivo è quello di incutere terrore nelle persone, dividere i popoli, dividere i musulmani dai cristiani, quindi non è solo una lotta contro l'Occidente, è una lotta contro l'umanità. Quindi a loro ovviamente spaventa l'ISIS perché comunque sta cercando di macchiare la loro religione, loro sono una famiglia musulmana e questa cosa fa tanta rabbia a loro. Fa rabbia sapere che l'ISIS è entrato in Siria e che sta cercando veramente di impossessarsi delle loro ricchezze, della loro terra e del loro paese. E quindi si sentono ovviamente di condannare quello che è chiamato l'ISIS, che è terrorismo, ma terrorismo contro l'umanità, non solo contro gli occidentali. La guerra, ma poi c'è anche il lato umano. Qui abbiamo delle mamme, abbiamo delle mamme che in maniera ancora più forte sono dovute scappare con i loro bambini, bambini piccoli, bambini già perseguitati addirittura a pochi mesi di vita. Ecco, io vorrei chiedere a una mamma quanto sia ancora più pesante, più tragico. Nel loro villaggio in Siria si riunivano in una casa, in una stanza, soli donne con i loro bambini. E mi diceva che quando si riunivano appunto, che altro si confrontavano, perché comunque bisogna anche avere forza tra donne, perché si tratta del futuro dei tuoi figli. Lei mi fa, io ho dato e sono pronta a dare la vita per il mio figlio. Cioè una madre, quando si trova in quelle condizioni, non pensa più a se stessa, pensa solo ai figli. E io come madre devo dire che ho sofferto tantissimo. Mio figlio appunto è ricercato da quando ha un anno e mezzo per un caso di omonimia. Quindi potete solo immaginare, perché veramente è per provarlo. Non lo augura nessuno. Un viaggio, quello che ha portato queste persone in Italia via Beirut, reso possibile grazie all'Operazione Colomba, che si occupa di creare corridoi umanitari di fuga per le tante persone che cercano di lasciare i territori di guerra. L'Operazione Colomba è un'organizzazione che vive in diversi paesi in conflitto. Uno di questi è in nord del Libano, al confine con la Siria, dove abbiamo una presenza dal 2013, a fianco delle famiglie siriane, nei campi profughi, nei garage, in tanti altri luoghi, dove queste persone hanno trovato riparo dalla guerra e dalla persecuzione. Molte sono famiglie che vengono dall'area di Oms e di Aleppo. Sono famiglie che hanno subito i bombardamenti da parte del regime di Assad, che sono fuggite durante i primi anni della guerra da parte delle violenze dell'esercito regolare e successivamente anche dalla nascita di gruppi come lo Stato Islamico e altri gruppi jihadisti. Però è importante ricordare che in Siria è una guerra dove ci sono violenze da più fronti, dove c'è un regime totalitario che ha oppresso a lungo e un altro totalitarismo come quello dello Stato Islamico che in qualche maniera si fronteggiano, ma a farne di più le spese la popolazione civile. Ci sono molti interessi trasversali economici e politici che si giocano sulla pelle dei siriani, ma che hanno i loro responsabili in altri continenti. Khadija ha a te anche il ruolo importante di aiutarli e accompagnarli da un punto di vista linguistico. Che rapporto umano si è creato? Perché penso che in poche ore tu sia già legatissima a queste persone e ti abbiamo vista molto partecipe. Assolutamente sì, io appunto sono qui come volontaria, come cittadina italiana che ha un senso civico perché vuole veramente aiutare, dare una mano per qualche posto più che altro perché io sono di origine marocchina, loro sono siriani, anche i nostri dialetti sono completamente diversi ma io faccio veramente lo sforzo di riuscire a capire quello che dicono e poter aiutare con la comunicazione e ti devo dire che in un giorno tante emozioni, tante emozioni, ho legato tantissimo con loro ed è come se li conoscessi da una vita, si è creato un rapporto umano appunto come dici tu molto bello grazie anche alla comunicazione che è molto importante e loro piano piano appunto impareranno l'italiano anche per poter comunicare con gli altri perché appunto è molto difficile da parte loro comunicare con una persona che non sa l'arabo e io in questo caso faccio veramente da mediatrice, è emozionante, io stessa mi trovo in difficoltà a dover tradurre non solo perché non conosco un termine ma perché mi emoziona quello che mi hanno detto quindi devo prima rielaborare per poi dare una traduzione corretta di quello che mi hanno detto appunto le paure erano tante prima di partire perché appunto l'Italia è un paese nuovo per loro però loro prima di arrivare in Italia hanno già sentito l'amore e l'affetto da parte dell'Italia e dei cittadini di Leni perché quindi questa cosa qui lo dice con onore noi ci amavano già prima e siamo stati accolti in una maniera impressionante c'è in un bellissimo modo, tanti sorrisi, tante lacrime quindi la cosa che più io mi aspettavo di trovare in Italia è umanità e io l'umanità l'ho trovata sin dal primo giorno, sin dal primo momento che ho messo piede in Italia ma soprattutto Leni, sono molto fiducioso, credo nel valore appunto umano delle persone e sono positivo, spero di poter dare un futuro migliore ai miei figli di poter vivere in pace perché comunque la cosa che più chiediamo è la pace cioè noi non vogliamo tanto, vogliamo solo avere pace e avere il diritto di vivere quindi anche non abbiamo grosse prospettive, vogliamo veramente solo vivere Grazie, grazie molto Grazie 9 patteggiamenti, un rivio a giudizio hanno chiuso a Torino l'udienza preliminare per le irregolarità nella raccolta delle firme di alcune liste che sostennero la candidatura di Sergio Chiamparino alle elezioni regionali del Piemonte Il giudice per le udienze preliminari ha stabilito la falsità delle firme e la cancellazione degli atti di autentica Noi cambiamo argomento, è stato trovato morto Paolo Rindi il ventenne di Varese scomparso il primo febbraio nel parco della Val Grande durante un'escursione La cronaca con la tragica fine di Paolo Rindi, baresino, 19 anni è stato ritrovato dai volontari del soccorso alpino e speleologico piemontese Si sono spente così le speranze di ritrovare vivo il giovane che era partito per un trekking in solitaria all'interno del Parco Nazionale della Val Grande non dava notizie di sé da domenica 31 gennaio come ricorda il portale di informazione langheroeromonferrato.net Su richiesta del pubblico ministero che conduce l'inchiesta sono riprese le ricerche che questa volta hanno dato esito positivo Si sta attendendo l'autorizzazione del magistrato per il recupero del corpo che era in un torrentello nel parco della Val Grande, territorio del comune di Cicogna La morte risalirebbe a circa un mese fa quando si sono perse le tracce del giovane che stava effettuando escursionismo in solitaria Fatale, secondo gli accertamenti, una caduta Sul posto del ritrovamento si è recato anche il padre Il mondo della comunicazione dovrebbe valorizzare di più e far conoscere realtà positive come queste che fanno del bene, silenzioso, la loro ragione di vita Così Franco Siddi, consigliere di amministrazione della RAI visitando il Sermig di Torino insieme al suo fondatore Ernesto Rivero Sermig di Torino, arsenale della pace, una creazione di Ernesto Rivero un simbolo a livello nazionale di cosa può fare la bontà Per lei la prima volta ne esce con quale messaggio? La prima volta che vengo qui ne esco con un messaggio che racchiude il simbolo che abbiamo qui nelle nostre spalle È vero, la bontà è disarmante Bisogna crederci E chi ci crede fino in fondo poi ottiene anche i miracoli come dice Ernesto Io sono rimasto colpito da alcuni racconti che mi ha fatto e poi dalla visita ai locali La verifica delle attività che sono in corso e che sono state fatte e che si fanno qui e nel mondo Che sono tutti semi di pace, di persone che riescono a incontrarsi Scalano delle montagne che pare sono impossibili E ritrovano se stessi, la vita, gli altri, la comunità Molti di loro credo che incontrino Dio poi perché qui c'è un messaggio che anima il fondatore Ernesto Rivero Mi pare che si senta nelle persone che incontri mentre viaggia all'interno, cammini all'interno Vede le persone che giocano, che scrivono, che si incontrano per un'attività sociale Gli incontri vedi facce molto diverse fra loro, tutti sorridenti Non so se siano ricchi, sono sicuramente ricchi nel cuore Allora questo è incredibile Finora siamo stati portati a pensare spesso La bontà è qualcosa che si fa una volta ogni tanto, un gesto Ma dire la bontà è disarmante e realizzarlo è qualcosa di più Apri i cuori Ti suscita un sentimento, una passione, un entusiasmo E ti rendi conto che è vero Hai voglia tu di dire che le guerre le spegni con le armi Non basta far cessare le armi quando c'è una guerra Se poi subito dopo non c'è qualcuno Prima uno, poi un altro, un altro ancora Che si mette a fare qualcosa di buono Che si mette a coltivare la vita A coltivare il piacere dello stare insieme Il bene della vita comune Qui tutto ha un'ispirazione superiore E ascoltando l'Ivvero devi pensare che ci siano davvero dei miracoli Perché lui mi raccontava di essere andato a Roma Nella presenza del consiglio Un presenza del consiglio da molti ha pensato in maniera diversa La storia ha tante facce Che ti chiede per cosa sei venuto E dice ma io voglio fare questo Voglio fare questa opera E ho bisogno dell'arsenale di Torri E dice non sapevo neanche che ci fosse L'arsenale invece poi c'è Si apre e diventa questa grande comunità Questa grande casa Questo grande centro culturale, religioso Multiculturale Di pace, di solidarietà Allora evidentemente qualcosa c'è che capita Sembra straordinario Sembra un po' sovranaturale Per chi ci crede questo è un segno di fede Si parla di comunicazione Lei è uomo di comunicazione In tempi così negativi Quanto è importante anche parlare di questo Io la vedo anche davvero molto colpita a livello umano Si io sono colpito Io penso di avere delle sensibilità di un certo tipo Vengo da una regione peraltro povera Che è isolata Che ha dovuto faticare per stare nel mondo E deve faticare ancora Quindi questo mi dà evidentemente un po' da pensare in più Ma le parole rischiano di essere anche sbagliate Di essere troppe A volte entrando in una sala Abbiamo visto la sala del silenzio A volte serve anche un po' di silenzio Perché ti aiuta Ti fa sentire Trovi te stesso E mentre stai cercando Trovi un po' di più te stesso Trovi anche altri Ti accorgi è così Anche se non c'è nessuno Quando siamo entrati nella chiesa all'interno Ho detto a Ernesto Mi sembra di essere di là Vicino a là È una cosa Non lo provo Ci sono delle sensazioni Chiaramente poi la vita non è solo una sensazione È la vita delle sue durezze E qui vengono affrontate Con le opere Ho visto di bene I fondi Gli aiuti Nel mondo Nei luoghi di guerra Nei luoghi più disastrati Nei luoghi dell'abbandono Non lo so Per la comunicazione c'è un segnale Dal mio punto di vista Che bisogna guardare tutte le realtà Noi spesso partiamo solo dalla considerazione È una grande notizia Una brutta notizia È una grande notizia È anche una grande opera di bene È una grande notizia Capire gli esempi Che ci sono nella vita comunitaria Importanti Che fanno nascere piante sante in qualche modo E allora Io credo che la comunicazione qui debba riflettere un po' Perché oggi noi abbiamo un'informazione troppo Fatta di troppo rumore Ce n'è tanta È sovrabbondante Ci sono tanti mezzi Tante opportunità Per tutti di comunicare Oggi chiunque può immediatamente comunicare Con centinaia di migliaia o milioni di altre persone Con un social e così via Però si rischia di essere dispersi Abbiamo bisogno di tutto intanto Di trovare un punto Di riferimento E allora Una informazione Che riprenda A capire Come si propagano i buoni esempi Che è ciò che noi da ragazzi abbiamo conosciuto Osservando le persone nella vita comune Credo che sia necessario L'informazione qui Abbiamo una responsabilità etica supplementare Che deve riscoprire Se vuol trovare anche La condizione per essere più forte Più autorevole No alla liberalizzazione del vino Senza qualità Arriva a dirlo Le 75 regioni del vino Presenti a Grinzane-Cavur Nell'ambito di una giornata Organizzata per discutere Delle questioni aperte Sulla fronte della produzione vinicola No al protezionismo Sì alla tutela dei vini di pregio Dei loro territori Le 75 regioni viticole europee Riunite nell'Arave Guardano i vantaggi Dell'espansione dei mercati Ma al tempo stesso Chiedono la tutela Delle denominazioni E nuove misure In aiuto dei vignaioli Sono alcuni dei temi Dibattuti a Grinzane-Cavur Ad un convegno internazionale Promosso dall'Arave Preseduto da Sergio Chiamparino Presidente della regione Piemonte Noi non siamo contro Allora la liberalizzazione Perché di per sé Può portare dei benefici Ai consumatori Perché gli consente Di accedere a prezzi minori A una gamma più vasta Ai produttori Perché consente Di avere mercati Più a ampie disposizioni Chiediamo che sia Una liberalizzazione con qualità E quindi la trasparenza È lo strumento che la garantisce Cioè se uno compra un vino Che è sull'etichetta Scritto vino da tavola E se poi si consente Che lì si metta Che è fatto con un vitigno Esempio nebbiolo O dolcetto Che sono una denominazione D'origine garantita Quello è un modo per Se non ingannare Certamente essere poco trasparente Nei confronti di quel consumatore Quindi noi diciamo Si produca ovunque i vitigni Che si vuole Però si scrivono Nelle etichette Quello che effettivamente ci sono Le etichette libere Metterebbero rischio Secondo Giorgio Ferrero Assessore all'agricoltura Della regione Piemonte Un fatturato da 400 milioni all'anno Nel solo Piemonte Creando una concorrenza sleale Al 60% del vigneto Piemonte Noi combattiamo fortemente La cultura Della non trasparenza Del mercato Oggi nessuno immagina Di porre barriere Doganali Insomma Qualsiasi tipo di barriera Però è necessario Che il consumatore Abbia le giuste informazioni Quindi Così come per il latte Ma in questi Oggi dibattiamo Anche della questione Del nome dei vitigni Sul vino da tavola Siamo contrari Al fatto che Non ci siano Le informazioni Sulla origine Del prodotto E quindi Per il latte Diciamo Basta prodotti Che sembrano italiani E dentro Non hanno latte italiano E diciamolo E poi Il mercato è libero Per i vini Diciamo No A inserire Il nome dei vitigni Qualora questi Siano In una denominazione D'origine Faccio un esempio Barbera Nebbiolo O dolcetto Nei vini da tavola Perché qualcuno Penserebbe Di comprare Una doc E in realtà Compra un vino da tavola Magari prodotto In Spagna O chissà dove Al via Il progetto Biosfera 2.0 La casa del futuro L'innovativo modulo È stato installato A Courmayeur Poi arriverà A Milano Rimini E Torino Un modulo Un modulo abitativo Di 25 metri quadrati Provvisto di tutti i servizi È costruito Mettendo al centro L'uomo E il suo benessere È il progetto Biosfera 2.0 Ideato da Active House E promosso Dal Politecnico di Turino Con l'Università Della Valle d'Aosta Avviato Con l'installazione Di un modello Abitativo A Courmayeur Per 12 mesi Farà tappa Anche ad Aosta Milano Rimini Torino E Lugano Dove sarà abitato Da oltre 20 persone Per completare Un monitoraggio ambientale E fisiologico Finalizzato A testare L'autonomia energetica E il benessere Il modulo Dovrà garantire Anche in condizioni Ambientali estreme In modo autonomo E senza ricorrere A una rete di energia esterna Una temperatura dell'aria Compresa tra i 21 gradi In inverno E i 25 In estate Nel caso la temperatura Si abbassasse Spiegano I progettisti E' possibile usare Il corpo umano Per uno scambio Di energia E con un'ora di ciclette Si può alzare Di 2 gradi I test Prevedono I meno 17 gradi Ai piedi del Monte Bianco In inverno E i più 39 Sulla riviera adriatica In estate Ma anche prove urbane Sull'inquinamento In metropoli Come Milano E Torino Per realizzare il progetto Sono stati investiti 250.000 euro E coinvolti 30 ricercatori Dal 2014 Allo studio Hanno partecipato Anche i ricercatori Guido Callegari Politecnico E Giuseppe Barbiero Dell'Università Della Valle d'Aosta Parliamo anche Dello stadio Filadelfia Perché al momento Tutti i programmi Sono stati rispettati A dirlo Il presidente Della fondazione Filadelfia Durante il sopralluogo Del cantiere I tempi Per la ricostruzione Dello stadio Filadelfia Si stanno rispettando E pensiamo E speriamo Di poter vedere Il Filadelfia Finito Per il 17 ottobre Con queste parole Il presidente Della fondazione Filadelfia Cesare Salvadori Ha accolto I consiglieri Della quinta Commissione Consigliare Della città Presieduta Da Luca Cassiani In sopralluogo Al campo Che fu Del grande Torino La prima novità È rappresentata Dalla sede Di casa Fila Che cambierà Locazione Per motivi Di sicurezza Legata al cantiere E dal container Che era situato All'ingresso Del Filadelfia Da oggi Sarà l'ingresso Di un ufficio In via Filadelfia 23 barra D Al pian terreno Il motivo È semplice L'area Dove ad oggi È ancora posizionato Il container Diventerà parte Integrante Del cantiere Quindi non sarà Più possibile Per i volontari Lavorarci dentro Inoltre È stata ideata Una rampa Allo storico Ingresso del Filadelfia Accessibile al pubblico Che potrà vedere Con i propri occhi L'avanzamento Dei lavori Cesare Salvadori Ha anche fornito Ai consiglieri Nuovi dettagli Sui lavori Ad aprile Dovrebbe essere Posizionata La prima tribunetta A metà maggio Il resto del prefabbricato E quindi Dei posti a sedere Inoltre Nello stesso periodo Verrà fatta La semina del campo Quindi Entro la fine Dell'estate Sarà posizionato L'intero guscio Devo dire Che è vero Che su cinque anni Che c'è questa Fondazione E dobbiamo Non dobbiamo Dimenticare Che i piani Sono stati anni Anche lunghi Diffici Di preparazione Che Sembra poca cosa Ma Tutte quelle Che erano Le attività Propedeuti A tutta Tutte le attività Che abbiamo Poi svolto Negli ultimi due anni Siamo Che a primi anni Non c'era Salvador E quindi E quindi È importante È importante Il lavoro Fatto da chi Mi ha preceduto E questo Lavoro Che viene fatto Oggi Un lavoro Di Equipo Un lavoro Di gruppo Che Senza La collaborazione Dei consiglieri Dei revisori Degli istituzioni Ma anche Dei volontari Tutti Guardate Che abbiamo Messo su Una quadra Di volontari Che È veramente Invegliabile Sia Di professionisti Che ci affiancano Costantemente Sia Di volontari Che operano In tutti i momenti Per quello Che serve Oggi Noi siamo Qui Il tempo Ci aiuta Oggi Perché Abbiamo calcolato Ecco Due giorni Fai Ecco Buono Ecco Benissimo Siamo In un momento Diciamo Di transizione Perché Questo Che sono Stati I nostri Uffici Fino A Oggi Da oggi Vengono Smanzellati E che Fra poco Qui diventa Area di Cantiera Anche questa Quindi abbiamo Dovuto Trasferire Questo punto Di informazione Della fondazione Di qui Al 23 Magari Prendiamo Devo farlo Certo Contrariamente Abbiamo Mettato Sella Se avremo I fondi Verranno Sistemati Rimessi Del sicurezza Il sicurezza Che per il momento Li isoliamo Per Quando avremo I soldi Li sistemiamo E li utilizziamo Questo per fare Un'area polivalente Per i tifosi Per il toro club Per il pungo Di fissolato E quell'altro Come area Per il torino Per Per la riabilitazione Di funzionare Di qualche giocatore Spazio agli sport invernali Con una delle sue discipline Più spettacolari Entra nel vivo La stagione agonistica Per Valentina Greggio Atleta verbanese Campionessa mondiale Di Speed One Lo sci velocità Torna in pista Per battere se stessa Valentina Greggio Vincitrice Lo scorso anno Della coppia del mondo Femminile di Speed One Il chilometro lanciato E vincitrice Del mondiale Della stessa specialità Con il record personale Di 231 e 800 km orari Da domani Sarà in pista nuovamente Per la prima prova Di Coppa del mondo Il Circus Della velocità su neve Ma sarebbe meglio dire Su ghiaccio Si ritrova in Canada A Sun Peaks Per la gara di esordio La ragazza verbanese Sarà l'unica componente Della squadra femminile azzurra E avrà il compito delicato E la grande responsabilità Di difendere la corona Di regina della velocità E di tenere alti I colori del nostro paese In una specialità dello sci Che è tra le più difficili Diciamo pure Più pericolose dello sci Alla prova canadese La greggio Si presenta con pochi allenamenti Sulle spalle Per quanto riguarda Le prove in pista Purtroppo la carenza di neve L'ha penalizzata Ma con una forte preparazione Fisica e atletica La mancanza di neve Non mi ha permesso Di prepararmi come volevo Ci dice la campionessa del mondo Ma ho lavorato molto in palestra Inoltre in Canada Avrei voluto portare Le novità teniche Che ho studiato Con l'ausilio soprattutto Di mio papà Sergio Ma non avendo potuto provare Ho preferito fare questa trasferta Con il vecchio e collaudato materiale Novità aerodinamiche Tutte rigorosamente top secret E i nuovi sci fatti Su misura per lei Verranno utilizzati in seguito Per quanto riguarda Il campionato Un po' di scaramanzia La gregio non si sbilancia Non faccio mai programmi Ci dichiara Il mio obiettivo È battere me stesso Ovvero migliorare Il mio record personale E cercare di superare Il muro di 232 km orari Per quanto riguarda La Coppa del mondo Cercherò di fare risultati Anche se quest'anno Penso che la concorrenza Sarà guerrita come lo scorso anno Forse di più Il Canada Sarà il mio test Per la stagione Stagione Che proseguirà poi Neve e temperature permettendo Sulle nevi di Andorra Alla Gran Valira Proseguirà poi in Vars In Francia Una pista ideale Per fare il record Per poi andare in Svezia E probabilmente in Austria In predicato C'è anche una prova in Islanda Ma non si è certi L'unica certezza È proprio lei La nostra Valentina Greggio La regina della velocità Sugli sci Che insegue un nuovo record E forse Un nuovo sogno Ancora adozioni Al centro delle discussioni Dai palazzi di governo Poi la visita del premier Renzi E al cantiere del centro congressi Che sarà realizzato Sono tra i punti salienti Dell'attività politica Che ci arriva in esclusi Per la nostra emittente Questo specifico aspetto Sulle sette rate Può tranquillamente Essere oggetto di discussione Sette, otto Non rate Marchi temporali Di inadempimento Su questo si può naturalmente Dibattere Quello che è assurdo È che passi il principio Per il quale Noi stiamo invece Introducendo una norma Che mette in condizione Peggiorativa A ordinamento esistente Il consumatore Se si può dibattere Per quale motivo Avete fatto già il decreto Lo dice sette rate L'avete già scritto Sette rate C'è scritto Se si può dibattere Perché non dibattete prima Visto che noi non possiamo più dibattere Il decreto come ben sai È un decreto di recepimento Della direttiva comunitaria Che prevede poi Un passaggio parlamentare Con dei pareri Che possono assolutamente Consentire Ancorché non obbligatori Come da procedura Al governo Al ritorno Nel Consiglio dei Ministri Il parere non è fricolante Quindi sai benissimo Come avete fatto Per la lettera F Della stabilità Sull'autotutela di Equitalia È stata cancellata Nonostante il nostro parere Ok Quindi voi non avete preso In considerazione Il governo liberamente Sceglie di non prendere In considerazione Il parere dell'opposizione E ci sta Cosa che potrebbe accadere Di nuovo Esprimete prima il parere Attendete che non venga preso In considerazione Sarebbe stato meglio Perché abbiamo tutto il tempo Si può recepire Dalla direttiva Entro il 31 marzo No E questa è la fase Del dibattito La fase Deve essere antecedente Perché se tu già scrivi Il decreto legislativo Io non ho la possibilità Di intervenire Devo farlo prima Eh no Di nuovo Il governo porta in Parlamento La sua proposta di testo Ascolta le commissioni parlamentari È libero di accogliere Non accogliere i suoi pareri Ecco che se noi Non lo accogliessimo Dopo questo passaggio Eventualmente Voi potete fare Tutte le vostre scene indignate Del caso Farlo in questa fase Cioè prima ancora Che esprimere un parere Un po' di rispetto Perché secondo me Gli italiani Fuori hanno capito benissimo Che voi Dopo se etterate Volete fare un altro regalo Del banche Questo è il mio parere Perché esattamente Come avete fatto Per il salva banche Che è salvare banche Non dei cittadini Avete fatto un altro regalo Del banche Come per Banche Italia I Banche Italia Sette miliardi del banche Cioè voi state lavorando A favore delle banche E mai per la gente Questa è la sintesi Che la gente capisce fuori Mio parere personale Poi non voglio disturbare Oltre alla conferenza Prego Questo decreto prevede Tra l'altro Che nel caso in cui Ci sia questo tipo di procedura E l'accessione dell'immobile Non produca un ricavato Sufficiente rispetto All'integrale copertura Del debito Il debitore Sia comunque liberato Il governo Ha scelto setterate Perché ovviamente Oggi le banche Hanno una sofferenza Di 300 miliardi di euro E l'impressione Che il Movimento 5 Stelle È che si vuole dare La possibilità A queste banche Di avere degli asset reali Cioè le case dei cittadini Si prendono le case dei cittadini Per coprire Una garanzia Che le banche Non hanno più I nostri risparmi Non sono più al sicuro Cioè neanche quelli vostri Ma sono più pulita per tutti Perché magari qualcuno Non riuscita a prenderla Qua Non lo so Se ti ho dato del sottosegretario Perché per me Meriti Invece lei ha riparlato Di Utero in affitto Ne ha riparlato anche per Diciamo le ultime notizie di cronaca Insomma si è riproposto un po' Questo tema Cosa ne pensi? Io non voglio entrare Nelle questioni personali Né personalizzare questa vicenda Di cui ho cominciato a parlare Prima che appunto ci fossero persone note Coinvolte Noi dobbiamo Secondo me Essere molto chiari Noi abbiamo proibito L'elettore in affitto in Italia Che è vietato Dalla legge 40 Tutti dicono La maggior parte del Parlamento Di essere contro L'elettore in affitto Quindi la mia posizione politica Non come governo Politica Come esponente del mio partito È quella di proporre Un disegno di legge Per Iniziativa parlamentare Per renderlo un reato universale Quindi perseguibile anche all'estero Prima di chiudere Vi ricordo ancora L'iniziativa in programma Dal 3 marzo A Chieri Dal titolo Spazio Vino Degustazioni di vino E non solo Organizzato al Cooking Loft Spazio Gusto Di via Vittorio Emanuele 40 Si tratta di 5 serate tematiche La prima delle quali Con il Barolo Il territorio E i suoi crew Con questo è tutto Dopodino i meteo Oroscopo Al manacco del giorno Poi di seguito Tutti i nostri altri programmi Grazie per averci seguito Buon proseguimento di visione Amici di Retta 7 Amici del Piemonte E del Nord Ovest Italiano Eccoci qua Un saluto De Giuseppe De Vittis Affluirà Aria via via Sempre più fredda Ma sarà una bella giornata Quasi dappertutto Quasi dappertutto Perché avremo Molte nuvole Sull'arco alpino Soprattutto settentrionale Molte nuvole Quindi in Val d'Aosta Non escludiamo Ancora Qualche fioccata Soprattutto sui versanti Esteri Ma anche su zone di confine Avremo la possibilità Di fioccate Nevicate Altrove invece Cielo sereno Però con temperature Non particolarmente elevate Nonostante il sole Perché appunto Affluisce Affluirà Aria più fredda Più fresca Vedete Bel tempo Comunque per tutto L'arco della giornata Il vento Il rinforzo Da Nord Ovest Quasi dappertutto Su zone alpine Fen Nelle vallate Su zone di pianura Limitrofe A rilievi Ma tenderà A rinforzare il vento Da Ovest O da Nord Ovest Anche su zone di pianura Soprattutto nel pomeriggio Temperature Quindi come detto In generale Calo Sia nei valori minimi Che nei valori massimi Soprattutto caleranno In quota Ce ne accorgeremo Cari amici Mi fermo qui Buon proseguimento Di settimana E siamo pronti Con l'appuntamento Dedicato all'oroscopo Che parte subito Dall'ariete La giornata Parte un po' assonnata E potreste fare fatica A recuperare L'energia necessaria Per affrontare Tutti gli impegni Di questo giorno Toro Le cose da fare Sono sempre tante Voi ogni tanto Potreste finire Col perdervi Nel mare degli impegni Che tendete ad assumervi Forse sarebbe il caso Di cominciare ad essere Un po' più selettivi Gemelli Non iniziate Un lavoro Finché non vi viene detto A chiare lettere Cosa dovete fare Infatti c'è il rischio Di darsi molto da fare Per ritrovarsi In cambio poco O niente Non è una grande giornata Per quanto riguarda il lavoro Forse sarebbe meglio Dedicarsi un po' di più Agli affetti personali Cancro Inutile rinvangare il passato A farsi del male Ricordando cose Che andrebbero lasciate Dove sono Molto meglio Pensare al futuro In modo positivo Leone Una chiamata di lavoro Potrebbe finalmente Riattivare una situazione Che langue da tempo Datevi da fare Perché a breve Sarete chiamati A dover dimostrare Di che pasta siete fatti Se il lavoro va bene L'amore funziona solo Se avete messo a posto Un paio di cose Vergine Le cose non stanno andando Come avevate previsto voi Pazienza Invece di arrabbiarvi Fate buon viso A cattivo gioco E vedrete che tutto Funzionerà nel migliore Dei modi Quanto prima Bilancia Ancora un po' di indecisione Per quanto riguarda Una scelta importante Che va a toccare La sfera privata Non potete però Continuare a rimandare Altrimenti potreste scoprire Un bel giorno Che è troppo tardi Per ottenere ciò che volevate Scorpione Se vi fermate all'apparenza Rischiate di prendere Un grosso abbaglio Meglio andare un po' più A fondo di una situazione Evitando così Di dare a una persona Delle valenze Che forse non ci sono Sagittario Qualcuno non risponde Alle vostre aspettative Nel modo in cui speravate voi Così vi sentite offesi E poco capiti Anche l'amore Non è mai in linea Con i vostri desideri Capricorno Siete sempre sulla difensiva Pensando che il mondo fuori Voglia solo farvi del male Cambiate punto di vista E siete più disponibili Nei confronti degli altri Potreste andare a incontro A qualche piacevole sorpresa Acquario Le cose che vi immaginate Non sempre potrebbero Corrispondere alla realtà Perciò le stelle Consigliano di farsi Pochi film in testa E basarvi il più possibile Sui fatti concreti Pesci L'ultima cosa da fare Nella giornata di oggi Sarà quella di piangervi addosso È vero Il lavoro conosce dei problemi E anche la vita privata Per molti di voi potrebbe funzionare A singhiozzo Ciò non toglie che Con un pizzico di ottimismo in più Potreste finalmente vedere Anche tutte le belle cose che avete E che troppo spesso Non considerate